ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri orologi eccoci qua con un'altra simpatica puntata dedicata alle vostre collezioni ai vostri video cioè quelli che ci mandate voi come fare lo sapete come partecipare no video in orizzontale sette minuti bello spigliato ricco di contenuti e soprattutto ricco di orologi perché noi quelli vogliamo vedere vogliamo vedere gli orologi perché dobbiamo alimentare una entità che sta con noi la scimietta sulla spalla la scimietta sulla spalla ha bisogno di vedere nuovi orologi ma soprattutto ha bisogno di possedere gli orologi quindi noi li guardiamo lei li guarda però non è contenta deve attendere deve attendere che voi li compriate un orologino come dargli una nocciolina glielo comprate lei è contenta ora detto questo vi mostro l'orologio del giorno che oggi questo fantasmagorico mio ultimo acquisto longin flagship ultra quartz del 1975 con il calibro esa 91 80 al quarzo uno dei primissimi quarzi dell'orologeria svizzera negli anni 70 il primo calibro l'esa 91 80 che ha equipaggiato in massa i segnatempo svizzeri varie marche lo utilizzavano longin omega certina zenith eterna e chi più ne ha più ne metta la ventina la ventina un bel consorzione adesso diamo un'occhiata ai vostri video è la barra spaziatrice qui che aspetta che attende di essere colpita noi la colpiamo subito a tradimento davide buongiorno buongiorno mi chiamo gerlando e ti mando il mio video da grigento a grigento la città più bella dei mortali come diceva pindaro ok anche se devo essere sincero io lavoro da oramai da quasi vent'anni a massa quindi nelle tue zone devo dire che sono molto affezionato alle tue terre bravo e quindi spero un giorno di incontrarti e ci facciamo una foto insieme allora ti mando parte della mia collezione i pezzi che ho qui a casa mia e quindi iniziamo con un 6 co 5 allora io è vent'anni che in pratica colleziono orologi bravo bravo e compri il mio 6 co 5 circa due settimane fa questa è la versione per il 55esimo anniversario del modello 6 co 5 sport e devo dirti che qualitativamente è qualcosa di veramente alto a cominciare dal bracciale che comunque è un bracciale semi rigido ma di secondo me di alta qualità e anche la cassa è bellissima se la guardiamo di lato non farebbe potrebbe essere benissimo una cassa squale o anche una cassa di un oris diver sinceramente bellissimo certo l'unica cosa che non so se è perché è una riedizione quindi magari l'hanno fatto con più cura ma veramente posso solo parlarne bene ok l'unica cosa che a me infastidisce un poco è il day date che sinceramente ne farei a meno anche perché ho diversi orologi insomma ogni volta che ne cambio uno dovere regolare data e giorno veramente no il secondo orologio che voglio farti vedere è un vintage cosa che ho regalato a mia madre accidenti al quarzo un orologio da donna a quanto quanto mi è sembrato di capire che c'è le culture per donna ha sempre le prime le referenze erano al quarzo per donna questo è in acciaio e oro c'ha le ansette in oro con la sua fibbia logata e mia mamma lo indossa con piacere con piacere con piacere è un orologio che per donna ha una certa eleganza o certo che si passiamo al reverso top acciaio e oro bello un orologio portabilissimo ed elegante io non gioco a polo quindi la cassa non la generalmente non la richiudo su se stessa però devo dire che veramente è un'icona dell'orologio bello acciaio e oro mi piace niente penso che questo orologio vada comprato così e non il duo face perché nonostante abbia due quadranti sia bellissimo sia fantastico a livello di meccanica e così via l'orologio nasce per ripartare la cassa e il vetro e proteggerlo e quindi secondo me con due quadranti snaturi quello che è stato il brevetto originale sì va bene adesso posso anche essere d'accordo con te si snatura il brevetto originale con due quadranti però insomma un po come un discorso un po come per gli altri come per panerai che devono essere così questi altri devono essere così insomma facciamo che ognuno solo compra come gli pare per esempio a me non mi piace acciaio e oro così mi piace però ad esempio non mi piace il fatto che non abbia la lancetta dei secondi io preferisco quello con la sfera dei secondi ognuno c'è le sue preferenze no quindi ci sarà chi preferisce quello con due quadranti che tecnicamente tecnologicamente anche un pochino più diciamo avanzato quindi faccio vedere un altro vintage cos'è? bello! bello assai penso degli anni dei primi anni settanta placato in oro ora a me non piacciono gli orologi placati in oro però tuttavia sebbene abbia ammirato il modello di orologio il bullet di citizen mi sono deciso a comprarlo quando l'ho visto nel film di tarantino e quindi il bello è stato anche la ricerca dell'orologio e se lo dovevo ricercare lo dovevo ricercare dorato va bene come quello del film e quindi l'ho trovato da un collezionista a un buon prezzo e perché no? poi dicono insomma che non ci facciamo influenzare qua il product placement funziona lo vedete quando mettono gli orologi all'interno di un film no? o all'interno di qualche situazione funziona funziona ci facciamo influenzare l'hai visto nel film di tarantino c'era una volta a hollywood hai voluto prendere l'orologio e cercare proprio quel modello lì pensa un po' come siamo messi passiamo al mio Omega Speedmaster automatic Cosiddetto Reduced dopo 3C Master ho deciso ultimamente di comprare lo Speed ho preso Reduced perché ultimamente sono più per calibri piccoli da 39 mm penso che sia la misura ideale e quindi come il mio primo Speedmaster ho comprato questo che devo essere sincero mi piace molto sia come quadrante mi piacciono i numeri aria via indici che secondo me completano il quadrante e non lo fanno confusionario come si può vedere in altri modelli dell'orologio mi piace anche la disposizione dei contatori e sul fatto che il modulo Dubois Debra sia più difficile da revisionare sinceramente non trovo riscontro perché ho avuto modo di revisionare un Girard Ferrego una referenza 8020 per Ferrari aveva pure lui il modulo cronografico Dubois Debra e l'orologeria non ha battuto il ciglio e me l'ha revisionato come se non ci fossero dei problemi te l'ha revisionato come se non ci fossero dei problemi te sei sicuro di questa cosa perché siamo incompetenti cioè io porto l'orologio dall'orologiaio mi fido dell'orologiaio mi fammi la revisione lui te lo consegna ho fatto la revisione te sei in grado di stabilire se te l'ha fatta veramente perché un conto è smontare il modulo cronografico separarlo dal modulo solo tempo smontare tutto rimontarlo e pulirlo fa la revisione come si deve è un conto e fare la revisione solamente alla parte solo tempo è non so se mi spiego che è quella che più vicino al fondello quindi va bene per ultimo per ultimo ti faccio vedere il mio tutto il blackberry top 41 millimetri 41 bravo 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 secondo me c'è una sua identità c'è nel senso io l'ho comprato apposta per questo design che c'ha che magari riprenderà il rolex big crown il submariner big crown degli anni 50 però se devo essere sincero ora il design identifica questo modello di tutor e gli intenditori comunque lo riconoscono a primo a primo sguardo certo ho fatto la fesseria di comprarlo col cinturino non tanto perché a me piace molto col cinturino però poi mi è venuto lo schilibrizzo di comprare il bracciale e purtroppo sono dovuto andare a comprare originale dal rivenditore e effettivamente consiglio a tutti gli utenti di comprare sempre braccialati come dici tu e poi successivamente mettere il cinturino che poi dubito che monterò mai perché sinceramente il suo cinturino è molto comodo è bello lo appesantisce di meno e quindi sono soddisfatto indossarlo così questa è una piccola parte della mia collezione davide perché oramai in vent'anni di collezionare orologi avrò accumulato qualche 25 30 pezzi però non ce li ho qui e quindi magari a questo video si farà un seguito ti saluto ti ringrazio veramente posso dire che il tuo canale è fantastico tu sei un gran presentatore una buona giornata a tutti gli appassionati una buona giornata io sono il presentatore hai capito sono il bravo presentatore come diceva nino frassica si a 25 30 orologi anche perché il tempo non sarebbe stato sufficiente siamo già a sette minuti adesso figurati se li presentavi tutti è giusto fare così presentarne una parte poi si vedrà intanto per questa piccola parte di collezione diciamo che abbastanza anche bene equilibrata un bel 8 8 non te lo toglie nessuno perché c'è un vabbè giugie lecultre al quarzo di tua mamma lo contiamo contiamolo bell'oroggio la signora come si deve al quarzo si va bene ma dove do un giugie lecultre al quarzo mi si spezza un po il cuore perché è la casa che ha fatto più brevetti di calibre ha fatto più calibri nella sua storia ma meccanici al quarzo poi magari è superlativo anche quel calibro al quarzo lì però mi fa un po fare un passo indietro però da signora ci sta però c'è il giugie lecultre verso il tuo bellino lì da signore da ometto il tudor lo speed master secco 5 8 8 non te li toglie nessuno io naturalmente non sono un fan del speed master reduced te hai detto che l'hai preso perché ti piace quello di diametri contenuti quindi quello lì è da 39 ma come ho detto già altre volte se uno volesse qualcosa di qualità di pregio elevato tecnicamente di diametro contenuto può sempre puntare al coaxial da 38 mm al first omega in space da 30 40 insomma ci sono contenuti diciamo che hai preso quello che costa un po meno diciamo così comunque 8 sei promosso prossimo video buonasera davide sera questo è il secondo video che ti mando bravo sicuramente ti ricorderai di me sono giuseppe ragazzo che aveva di qua aveva perché ho avuto la fortuna di venderlo il longin plonger quello che tu hai definito il brutto natroccolo e l'obbrobrio di casa longin bellino non era effettivamente mi vuole dirlo ma avevi totalmente ragione ho sempre ragione comunque voglio farti perdere tanto tempo ti faccio vedere la mia collezione ci sono stati degli aggiornamenti ho faccio i nuovi acquisti partiamo dagli orologi che già ti ho fatto vedere nel primo video e perché allora per farvi vedere questo citizen gli ho cambiato il cinturino io ho messo questo qui che lo rende più sportivo bellissimo molto simpatico no non mi piace e tra l'altro lo uso anche spesso bravo poi il bulova by caravelle aveva il bracciale io ho messo questo cinturino nero stile racing che lo rende più simpatico anche questo ricordo di famiglia ci sono molto affezionato tutti simpatici poi sicuramente ti ricorderai di questo polgio poi ho fatto delle ricerche e l'ho trovato online dopo un un bel po di tempo che cercavo e l'ho trovato online quindi ho avuto la conferma che che si tratta che si tratta di un orologio originale quindi non di un accrocchio va bene sono contento dai sono contento adesso ti faccio vedere nuovi acquisti poi facciamo subito da questo seco 5 vissuto vintage molto vintage molto vintage questo orologio molto particolare perché perché fa come vuole lui nel senso ogni tanto parte ogni tanto non parte va un po a sentimento di fatti ogni tanto lo tengo nel cofanetto ogni tanto lo tolgo per punizione quindi sta lui decide un secondo se riesco a vederlo ma non saprei cosa dirti te dici non funziona funziona ma io vedo il day date vedo il 9 che è gigantesco e mi è mercoledì lì che è un pochino di fonte differente non vorrei ci fosse qualcosa che non va in questo orologio che non fosse originale ma lo butto lì però un pochettino dove stare o nel nel comodino o nel cofanetto o nel cofanetto bravo omega geneve faccio vedere questo omega geneve con movimento meccanico a carica manuale molto molto prestazionale ha il fermo macchina con datario rimessa rapida molto preciso originale in tutte le sue parti devo far lucidare i plexi che fortunatamente è originale perché c'ha il logo omega serigrafato al centro va bene dai poi ti faccio vedere questo rado vintage purple horse ma io non so referenza molto rara perché ha l'ancora il logo a ore 12 anziché a ore 9 come la stragrande maggioranza dei rado purple horse poi mi mancava un diver e ho comprato questo polpico pol mariner 1 versione ovviamente automatica certificato COSC in molti diranno che somiglia su mariner ma va un po hanno ragione però lo stile quello non è che se non è che lo stile quello lì si può fare anche cose si possono fare anche cose differenti e non è che lo stile quello lì la bisogna fare così è copia polpico per l'amor del cielo un gran bel marchio questa è la copia di un submariner c'è anche la corona lì che è sottodimensionata rispetto alle spallette è veramente brutta come corona come spallette non si può guardare questo orologio qua dai la copia di un submariner è il fatto male si può fare qualcosa di più originale sì che si può stanno inventando qualcos'altro lo stile è quello lì prestazioni eccellenti appunto un certificato COSC piccolo difetto nella lancetta dei minuti che manca un po' di trizio bracciale originale con prolungamento subacqueo subacqueo? è un bello orologio molto molto iconico si? meno male infine come ti dicevo nell'ultimo video nel primo video che ti ho inviato stavo cercando un Mido Ocean Star con la versione blu ho trovato questo e ho deciso di comprarlo al posto del Mido bravo parliamo di un rado Captain Cook da 37 mm edizione speciale che richiama il primo modello del 67 se non erro io con i numeri e con le date non sono molto ferrato bello va bene molto molto bello molto molto bello dai bene la mia collezione è finita Davide io ti ringrazio per che sei una fonte di conoscenza addirittura che se io so qualcosa del mondo dell'orologeria è grazie a te eh allora sai niente adesso il mio prossimo acquisto vorrei alzare un po' di livello ti ho visto il tuo omega con il bracciale armadillo che è forca miseria è la fine del mondo veramente veramente spettacolare infatti se vuoi venderlo dimmelo che magari te lo compro io ci vuole i soldi però grazie mille Davide alla prossima ciao 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 niente insieme di un'orologica che mi lascia un po' perplesso non tanto per la qualità per l'amore del cielo io ti do un 6 e mezzo un 6 e mezzo diciamo che ha risollevato le sorti quel rado Capitan Cook alla fine che secondo me è un orologio valido che meriterebbe di stare anche con altri orologi di pari grado però poi c'è quel pool piccoli che secondo me non ha gran senso di esistere la coppia di Sun Mariner e poi mi ha fatto vedere tre orologi sui quali ho dei dubbi infondati diciamo subito sono infondati quindi hai ragione te però quel 6 e 5 a me non mi sembrava mi sembrava mezzo crocchio ma non lo è però mi ha dato questa sensazione l'Omega uguale poi mi hai detto che c'è il simbolo Omega sul plexiglass quindi mi è caduto tutto il castello che mi sono fatto però non l'ho mai visto così con quadrante così grandi con l'unità c'era qualcosa di strano poi il rado Purple Horse che non sono ferrato su quel modello lì ma ti hai detto che è raro perché ce l'ha ore 12 la scritta sui mesi era una sinistra molto in là e made molto a destra mi ha dato subito un'impressione di qualcosa di strano perché sono bravi gli indiani a fare quelle cose lì quegli accrocchioni lì però sicuramente sono tutti e tre originali e viva e viva e viva quindi però per quanto mi riguarda mi istituti darti un 6 e mezzo ampia sufficienza ma insomma un pochino così no va bene dai ho detto la mia non mi lapidate dite la vostra anche voi ciao Davide ciao ciao amici del canale sono Luca della provincia di Savona Luca e Davide ti mando questo video per farti vedere la mia umile collezione di orologi umile collezione di orologi è una frase che non ho mai sentito comunque va bene cosa ci vuole far capire l'amico l'amico ci vuole far capire che è un appassionato di scacchi perché c'è la scacchiera grande e la scacchiera tascabile da portare in giro per giocare anche a me piace giocare a scacchi io ci gioco online così come passa tempo non è che sono un campione partiamo con l'orologio del giorno Stitizio ProMaster NY0040 Fullume bravo a cui ho montato questo cinturino in gomma per l'estate che secondo me riprende bene anche il colore del quadrante ma sì oggi li conosciamo tutti muletto incredibile la batteria spettacolare sì simpatico dai prossimo cos'è cos'è Seiko DX del 1972 orologio automatico senza carica manuale movimento 6106 originale scusate sto morendo originale in ogni sua parte tenuto perfettamente un orologio che ha 52 anni bello acciaioso di 50 anni vetro originale tutto originale particolarità del movimento è che per cambiare la data bisogna premere sulla corona proprio premere bell'orologio un bel un buon oggetto di collezione ah certo ci piace seccoci prossimo orologio T-Classic acquistato nel 2014 guarda che bello questo 42 sarà 28-24 etta classico 39 mm 39 bellissimo bracciale comodissimo forse questo qua è uno dei bracciali migliori che ho a parte un altro è proprio fluido comodissimo questo orologio lo fanno sia in bianco sia nero così e sia stesse colorazioni versione cosco praticamente cambia soltanto vabbè a parte il movimento il quadrante che ha delle strisce verticali scusa mettiamo 39 mm ma io vedo la data la finestra del datario che è veramente verso il centro del quadrante se è un etta 28-24 è un orologio a 39 mm la finestra data sarebbe veramente vicino alla lunetta boh c'è qualcosa che non va o non è un etta 28-24 o non è 39 mm dai non si vede molto in giro questo orologio qua però mi è piaciuto molto soprattutto anche per le alze questa particolare forma delle alze dove si va a congiungere il bracciale con questi bisogni lucidi originale si angolazione si 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 un po' più sportivo sportivo Hamilton Kakifield 38 mm bianco cioè bianco argento acquistato con il suo cinturino marrone e acquistato poi questo bracciale in acciaio originale Hamilton secondo me col bracciale fa la sua porca figura porca figura bravo col cinturino infatti secondo me ci sta molto bene si si orologio tutti i giorni bianco però un migarba tanto poi glissim combat sub combat sub 42 mm anche lì salita sv200 bello orologio sottile abbastanza sottile bello leggero soprattutto per questo cinturino in gomma waffle cambiato subito il bracciale perché il bracciale mi fa di questo glissim fa veramente pena non dà giustizia alla cassa e all'orologio in generale è un bel orologio estivo dai si è simpatico si chiama combat sub vintage questo modello quarzo lunar pilot ci sta questa versione più di nera cambiato anche qua il cinturino ho messo questo cinturino race ho preferito questa versione nera per la colorazione e per il logo bulova stile vintage e la mancanza di data il movimento quarzo un però viaggio ad alte frequenze bulova però ce lo facciamo andare bene mi piace questo è un bel orologio gigante se non sia 44 mm o 45 addirittura però è un bel orologio io essendo appassionato di spazio viaggi spaziali è un orologio che in collezione ci sta bene ma si ci sta io non lo vorrei ma ho contento con questo bello questo versione vecchia si al quarzo eh si questo qua lo comprai qualche anno fa quando di orologi masticavo ancora poco e l'ho comprato al quarzo l'ho usato molto lo uso molto infatti poi l'ho rigato anche qua ho cambiato il cinturino ho messo questo blu perché non perché sia di una brutta fattura però preferisco d'estate avere dei cinturini in gomma più leggeri più comodi più estivi diciamo gli orologi secondo me vanno a comprati sempre col bracciale poi oh anche ti hai visto eh certo ad acquistare poi dei cinturini a parte se si vuole poi Seiko Samurai Samurai simpatico anche qui nero più di nero ti piacciono tutti i neri così eh 6.35 versione limitata a 6.000 pezzi 6.000 pezzi dedicata alle immersioni subacque notturne molto ha un bel quadrante spicca spiccano gli indici azzurri ghiera in ceramica vetro zaffero è un bel orologio si vede eh certo siamo tutti contenti dai il classico Samurai una versione un po' più particolare rado golden horse oh top conosciamo tutti età 28-24 un orologio gioiello sottilissimo incredibile cosa si possa fare con il 28-24 fatte di sottigliezza ma non è il 28-24 è il calibro R80 quindi sarebbe come dire l'età COZ C07 età C07 no quello con la spirale libera e 21.600 alternanze orari 80 ore di riserva di carica è un orologio gioiello proprio un gioiellino bello lo scoperto io ci ho messo un po' e da anni che lo volevo ho messo un po' da parte di soldini dopo 3-4 anni sono riuscito a prendermelo bravo lo desideravo e finalmente è entrato in collezione bravo niente Davide ti ringrazio grazie per tutti i video che fai per tutti ti mi complimento con te per la professionalità professionalità e ci vediamo presto e voglio e ci vediamo presto va bene viva gli scacchi ciao Davide bravo hai visto i garbano gli scacchi te l'avevo detto io niente un bel lotto a questa collezione perché va riegata piena di belli orologini che fra un po' non mi ricordo più nemmeno quali sono sicuramente sì se ecco 5 quel tisso strano che secondo me è da 42 il glissin vintage il bulova il quarzon l'idrocon il samurai e il rado golden horse che è sicuramente la punta di diamante di tutto questo bello ho lezione ed è l'orologino che uno non dovrebbe vendere mai non come ho fatto io che l'ho venduto non mi ricordo per prendere cosa ma sicuramente l'ho venduto per prendere altro e avrei potuto tenerlo dai prossimo video 8 della collezione siamo contenti così buonasera Davide buonasera agli amici del canale che vedranno questo video va bene mi chiamo Luca e sono di Torino Torino volevo farti vedere la piccola raccolta di orologi miei e di mia moglie e beh cominciamo per garanteria con gli orologi di mia moglie nomos club 35 mm questo bellissimo quadrante rosa con lancetta dei secondi arancione calibro alfa carica manuale certo bracciale in acciaio nomos ci piace orologio portabilissimo e che mia moglie indossa con gran piacere gran piacere brava a pari di questo questo diciamo è l'orologio totale di mia moglie rolex air king da 34 mm del 1996 non sono un grande amante di rolex ma vedendo la riuscita e tutto quello che ha passato questo orologio in questi anni e come ha resistito al tempo non posso che dire che la qualità si vede e certo rolex orologi di qualità e precisi orologio regalatomi da mio papà un bretty do blue brightling di time air quarts 3100 seconda serie quindi movimento miota distrutto massacrato pieno di scalfiture righe danni ci ho fatto di tutto io purtroppo gli orologi li rovino perché li uso un altro lunar pilot blova lunar pilot ovviamente un quarzone seppur ad alta frequenza 43 e mezzo di diametro orologio molto importante orologio non leggero orologio che mi piaceva per l'idea di omage all'ultimo orologio che è stato sulla luna e va bene e per lo stesso motivo il primo orologio che è stato sulla luna anche se qualcuno dice che non è vero perché il 3861 non è un diretto discendente del calibro 321 non è l'unico che non è effettivamente mai stato usato dalla nasa perché è il calibro nuovo però orologio bellissimo l'unica cosa che mi ha lasciato un po' perplesso dopo l'acquisto me ne sono accorto portandolo è come il bracciale si inserisce nelle anse non mi sembra che per un orologio che attualmente costa più di 7000 euro nella versione come questa con il vetro in esalite sia sufficiente secondo me si poteva fare di più poi magari una fisimamia penso che come hai fatto tu lo passerò ad un cinturino in pelle orologio dei 21 anni Brightling Chronomat calibro 7750 di Valjoux un orologio bellissimo questo del 1992 quindi ha retto il tempo in maniera eccezionale usandolo anche a fare il bagno subacqueo a 100 metri l'unico vero problema ma mi dicevano che è un problema di queste serie del Chronomat sono i cavalieri che sulla corona che per un uso non troppo attento possono staccarsi ovviamente si l'ho sentito anch'io è successo poi soprattutto perché li vedi che sono abbastanza sporgenti quindi sono facilmente impigliabili da qualche parte un urto qualcosa ci sta ci sta ci sta però è un bello orologio sono sulla lunetta non sulla corona i termini insomma cerchiamo di utilizzare quelli corretti beh il Chronomat mi è sempre piaciuto e sempre mi piacerà proprio sprizzano i 90 però mi piace Eichling ti vende il full set solo quindi sono costosi il full set di Cavalieri altro cronografo l'orologio dei 40 anni quando si dovrebbe diventare una persona più seria bonne merci e classima sempre 77,50 orologio classico aspetto da orologio elegante portabilità parliamone perché oggettivamente è spesso e spesso anche le le anse qui è spesso e non hanno fatto niente per dissimulare lo spessore perché vabbè tutti sono più o meno spessi ora non so quanto è questo sarebbero tu ce lo dicessi nella misura però insomma di solito si cerca di dissimulare lo spessore cercando di fare degli svasa 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 no invece in questo caso proprio un muro così le anse un muro che viene giù e della FIA sono importanti diciamo orologio invece portabilissimo e semplicissimo nomos orion da 38 mm calibro alfa carica manuale calibro alfa bellissimo fondello questo ecco questi sono i calibri che merita secondo me vedere perché sono fatti veramente bene adesso lo mettiamo in modo che si veda un po' meglio senza riflessi è un gran bello orologio certo oltretutto un orologio elegantissimo con i suoi due cinturini uno nero e uno marrone scuro lo usi in qualsiasi occasione bravo dove vuoi orologio ma spartuta da tutte le occasioni maurice lacroix icon da 39 quadrante secondo me è rifinito molto bene mi piacciono molto gli indici applicati personalmente non amo il datario aure 3 in questo orologio l'avrei preferito senza però la qualità della cassa per il prezzo che costa è assolutamente qualcosa di valido è qualcosa per cui secondo me vale la pena guardare a questo marchio yes un altro marchio che ritengo bello questo un ottimo produttore di orologi mi do questo è l'Ocerstar Tribute viene consegnato normalmente con il bracciale in maglia milanese e con un cinturino in gomma bracciale a maglia milanese che io che appunto ho tratto male gli orologi ho già rovinato adesso vedremo come sistema ma che ti frega la qualità è molto 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 bella molto bella la qualità secondo me potevano fare uno sforzo in più e mettere degli indici applicati anche questo l'avrei fatto senza datario orologio che è la mia stessa età 52 anni Omega Simaster Bigiello del 71 calibro di Omega 1000 e 2 quindi non uno dei calibri più diciamo raffinati di Omega però orologio che mi piaceva tantissimo a cui è stato usato la cassa è stata già rilucidata vi ho abbinato questo bel cinturino in pelle di John Kustraps con le punture gialle sto valutando se farlo revisionare in Omega ma Omega per il restauro di questi pezzi chiede una cifra fissa di intorno ai 750 euro salvo complicazioni da valutare si spendono ultimo acquisto Christopher Ward Trident 600 ci piace che dirgli a Christopher Ward per quello che costa fa degli orologi perfetti vale assolutamente la spesa nulla da dire orologio un po' pesante però un bracciale fatto molto bene chiusura con micro regola si questo qua ce l'aveva anche il mio amico Caramaschi me l'ha portato a far vedere qua e devo dire che sono rimasto abbastanza sorpreso non sorpreso confermo che sono orologi di qualità non è che sono sorpreso lo sapevo anche prima che fanno orologi di qualità ma toccarlo con mano vedere come è fatto tutti i biselli le parti tanta roba Christopher Ward lo trovo quasi a livello di Maurice Lacroix come finiture ultimo ma non veramente ultimo per diciamo per sentimento Citizen 8380 automatico è un 100 metri io l'ho usato per prendere il brevetto di immersioni per prendere il padic ho fatto tutte le immersioni nonostante sia un 100 metri e abbia ovviamente la corona a pressione è un carrammato quindi resterà sempre con me ti ringrazio per l'attenzione ti mando un saluto e fammi sapere cosa ne pensi ciao cosa ne penso collezione simpaticissima bella collezione 8 e mezzo 8 e mezzo il cronomat il breitling cronomat mi è piaciuto tanto il Marisol Acroix è sempre stato uno dei miei orologi preferiti anche se adesso non ne possego più nemmeno un esemplare mi hanno stufato gli orologi con il barcciano integrato poi abbiamo la conferma da uno che ha preso i brevetti ha fatto le immersioni quelle serie non quelle che facciamo noi nella vasca da bagno con un orologio 100 metri e la corona a pressione non gli ha mai dato problemi quindi significa che l'impermeabilità garantita dalle case serie è seria hai capito non è uno scherzo non è che se compro un orologio su Amazon che c'è scritto 100 metri di impermeabilità poi chi me lo garantisce che quell'orologio lì è veramente 100 metri Citizen Seiko tutte le case storiche famose ti garantiscono 100 metri e 100 metri sono magari hanno testati anche al 30% in più hai capito quindi benvenga benvenga poi altri orologi che avevi ah i nomos i nomos i nomos sono simpatici lo speedmaster eh no si buona ho fatto bene 8 e mezzo perché non ci pensavo più lo speedmaster nomo mi do cesta no 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 8 e mezzo ci stanno tutti bella collezione di orologi complimenti a parte i quarzoni che a me non è che mi il bulho va a lunar pilot vedo che ce l'avete in tanti stavo guardando dicevo ma allora lo devo comprare anch'io ma no non mi interessa lunar pilot non mi interessa non rientra nei miei gusti al momento o magari un giorno chissà il brightening credo che c'ha il miota io scopro adesso che il brightening utilizza i calibri giapponesi lo scopro adesso miota vabbè lo prendo per buono perché sui quarzi non l'ho mai studiato ragazzi anzi voi che siete lì che sapete tutto è giusto che è corretto che incassavano il miota il brightening navitimer al quarzo punto di domanda boh vi ringrazio per essere arrivati fino qua ragazzi avervi guardato i video con me e mi aiutate anche a sciogliere dei dubbi adesso lo fate scrivete sotto io devo andare a vedere i gattini su instagram non è che posso stare qui a pettinare le bambole no o a smacchiare i jaguari sono cose che si possono fare ma i gattini su instagram vengono prima miau miau saltano e io riguardo che mi rilasso mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love musica Grazie a tutti.